Una vicenda amara con dei risvolti inquietanti, così la comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Michele Iadarola, a commento della drammatica vicenda, emersa grazie al lavoro investigativo della tenenza di Lanciano, guidata dal capitano Domenico Siravo in una RSA del capoluogo Frentano. Tre persone indagate, il gestore dei servizi sociosanitari della struttura, una dipendente e un terzo soggetto collegato da conoscenza pregressa alla gestore. Le ipotesi di reato indicate dall'APM della proposta di Lanciano, Mirena Greco, sono di maltrattamenti, indebito, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le indagini partite da un semplice controllo finalizzato al contrasto del lavoro sommerso hanno fatto emergere un quadro ancora più inquietante. Accertato l'utilizzo di mezzi di coercizione tale da non permettere la deambulazione dei pazienti, tipo armadi metallici intorno ai letti, distacco notturno dei campanelli salvavita, la mancata comunicazione alle autorità competenti dell'insorgenza di un focolaio di scabbia ad inizio 2023 e perfino la sostituzione dei farmaci riempiendo i relativi flaconi con semplice acqua. Ma uno dei dettagli più inquietanti riguarda il ripetuto prelievo di denaro da un conto corrente di un anziano de gente per una montata di oltre 7.000 euro che il gestore utilizzava per ricaricare la propria post-pay con la quale acquistava beni personali. In una nota il colonnello Iedarola sottolinea come sia stato importante struncare una delle espressioni più virulente e insidiose dei comportamenti illeciti, siano essi di natura economico-finanziaria che di sicurezza pubblica a salvaguardia dei servizi di assistenza sociale.